Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La confessione di Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha scosso i social. Il giovane calciatore ha deciso di condividere per la prima volta i momenti più difficili della sua vita, parlando di ansia, disturbi alimentari e insicurezze legate al corpo. Dopo aver contratto la mononucleosi a 11 anni, Davide ha iniziato a soffrire di questi problemi, che lo hanno portato a un aumento di peso e a sentirsi isolato. Il cibo è diventato il suo rifugio emotivo, ma solo dopo la morte del nonno ha preso coscienza del suo stato, arrivando a pesare 104 kg. Tre anni fa ha iniziato un percorso di cambiamento, nutrendosi di mezza mela al giorno. Grazie all'aiuto della psicologa, ha trovato equilibrio e libertà dalle sue paure. La madre, Sonia Bruganelli, si è detta orgogliosa di lui. Il post di Davide è un gesto coraggioso che potrebbe ispirare molti giovani in situazioni.